Bella a tutti, sono Cochise, stiamo andando a registrare altri pezzi di radiografia, ho visto un uomo, mi stavo anche disegnando una caviglia, lei è scena di Obi-Wan, in tipica out lei c'era nel mondo che non è reale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS è moda, è moda, è moda, è moda è moda, è moda, è moda, è moda no, ma come? ok, cosa devo fare in realtà? cantare, ok è moda, è moda, è moda, è moda, è moda è moda, è moda, è moda è moda, è moda, è moda lo sai come mi chiamo e lo sai come ti chiamo senti, tanto ti lascio in play, tu vai per come voglio vivere questa vita direi che io non ho bisogno di te madonna quanto sono stonato, dimmi quanto ma meno male che c'è l'autotune ma non mi salvo nemmeno così sono troppo, troppo, troppo incapace e fare un disco tutto così dove dico che non so cantare per come voglio vivere questa vita direi che non ho bisogno di te no, 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 mi piace l'ultima beh, tu prova, prova, stiamo provando per come voglio vivere questa vita direi che io non ho bisogno di te per come voglio giocare la mia partita direi che voglio tutto a parte te se tu in questo video metti l'audio di questa cosa senza autotune io ti licenzio se tu in questo video metti l'audio di questa cosa senza autotune io ti licenzio lo dico subito se chiedo a te come se fosse possibile ma per te qualsiasi cosa è possibile come farci una vita io ci credevo davvero ma adesso non ho bisogno di te mi hai sempre chiesto di essere sincero ora lo sono mi sfogo per non prenderti a schiaffi su questa base mentre suono come se fosse possibile sto morendo te lo giuro non ho più le corde vocali c'è Fabio qui dentro che sta vomitando dopo c'è da pulire qua come se fosse possibile qualsiasi cosa è possibile io ci credevo davvero non ho bisogno di te di essere sincero lo sono per non prenderti a schiaffi su questa base mentre suono è scontato troppo solo una tua foto scoppio chiama la nostalgia poi vaffanculo vado via ed esci moda casa mia stai calmo pure chiamo la polizia ok faccio si tantissimo sono morto tre volte pure chiamo la polizia essere sincero ora lo sono mi sfogo per non prenderti a schiaffi su questa base mentre suono vivi mi è scontato ti ho vissuta troppo adesso chiesto e vi si c'ho un paio di momenti un po' segati però è possibile? ma quella dopo è? forse è possibile?